ehi ciao come stai perfetto una volta aggiunti i tuoi alloggi ciò che devi decidere se richiedere i tuoi ospiti solamente i dati richiesti dalla legge quindi dal portal alloggiati dall'istat o se vuoi richiedere più date più informazioni quindi il nostro check in online è 100 per cento customizzabile per fare questo devi andare alla sezione impostazioni vai su check in online aggiungi formulario customizzabile quindi qui dai un nome al formulario il paese l'italia quindi una volta selezionato il paese ti faccio vedere tutti i campi che richiediamo non cancellare nessuno poiché questi sono i campi richiesti per inviare i dati correttamente ad alloggiati e all'istat se vuoi per esempio qui puoi richiedere obbligatoriamente in questo modo la mail dell'ospito il numero di telefono e puoi aggiungere appunto un campo in più quindi per esempio puoi aggiungere un campo per richiedere un file per esempio il green pass giusto quindi puoi richiedere a loro di caricare una foto del proprio green pass lingua italiano puoi aggiungere più traduzioni quindi io qui ti consiglio aggiungere tutte le traduzioni possibili se hai ospiti che parlano diverse lingue ovviamente se normalmente solo ospiti che parlano italiano in inglese aggiungi in inglese ok lo salvi ok quindi in questo modo sei già pronto puoi scegliere se richiede l'obbligatoriamente o meno cliccando qui devi selezionare l'alloggio in cui vuoi applicare questi cambi al formulario e clicchi su salva formulario perfetto e pronto dopodiché devi decidere adesso se vuoi appunto registrare gli ospiti tramite il check in online se farlo inviando loro il nostro template di email per il check in online che è abbastanza semplice e si vede in questo modo o creare una propria mail quindi 100% personalizzata a tuo piacimento per attivare l'invio di questo check in online di questa mail vai appunto alla sezione alloggi clicchi sull'alloggio in questione e l'attivi da qui ok quindi io ti consiglio di scegliere sempre tutte le opzioni tranne quando viene creata la prenotazione perché perché se la prenotazione la crei per esempio tre mesi prima è inutile credo contattare con l'ospite tre mesi prima perché in tre mesi cosa succede tutto se scegli tutte queste opzioni che il consiglio che ti do non ti preoccupare non mandiamo infinite mail all'ospite e di fatti nel momento in cui tutti gli ospiti siano registrati smettiamo di mandare il reminder di inviare il reminder per esempio se due ospiti si sono registrati già una settimana prima il check in non inviamo la mail qui qui e qui quindi questo è per attivare questo check in online questa mail altrimenti puoi creare la tua propria mail andando su impostazioni su comunicazioni e qui ti crei un modello a piacimento quindi qui scrivi ciò che vuoi perché questo nome della mail non lo vedranno gli ospiti qui sì che sarà l'oggetto della mail che vedranno gli ospiti quindi per esempio online check in mandatori ok quindi check in online obbligatorio e qui scrivi il tuo messaggio quindi hello puoi usare le variabili qui a destra quindi in questo caso si copierebbe si fa un copia e incolla del nome e cognome dell'ospite che ha inserito nella prenotazione poi puoi scrivere il testo che vuoi io ti consiglio sempre di essere molto gentile però allo stesso tempo far capire loro che questo non è un formulario ma che devono registrarlo perché sei obbligato dalla legge a inviare i dati alla polizia quindi thanks a lot for having chosen my apartment please register here non dimenticare di inserire la variabile del check in online se vuoi puoi anche creare questo in formato html quindi per dargli un livello in più di personalizzazione aggiungendo colori immagini al tuo piacimento il momento sempre ti consiglio di scegliere queste opzioni insieme le lingue quindi qui per esempio puoi creare una sola mail e aggiungere più traduzioni qui o creare una per ogni lingua appunto quindi per esempio questo si invierà solo agli ospiti a parlare inglese e per ultimo scegli l'alloggio a cui applicare questi cambi ci vediamo ai prossimi video